Un mondo senza confini è il titolo di un progetto sull'interculturalità che ha visto protagonisti alunni dell'istituto comprensivo Cesare Battisti di Taranto e relativi genitori in uno spettacolo di canti e balli tipici di alcuni paesi del mondo. Viaggiando sull'economico treno della fantasia, i ragazzini hanno imparato a conoscere alcuni aspetti della tradizione russa, spagnola e brasiliana per poi tornare sui binari italiani in direzione Taranto e riavvicinarsi a due tipiche espressioni della cultura locale, la tarantella e il canto invernacolo. 20 ore di preparazione per uno spettacolo che oltre ad avvicinare i ragazzi alla multiculturalità ha costretto in un certo senso i genitori a trovare un po' di tempo da trascorrere con i propri figli.